Belli miei, buonasera e salute! Sto chiedendo a Zia Teresa Zia Teresa mi ha sbloccato un ricordo e io sblocco a voi un attimo solo e vi faccio tornare bambini o forse qualcuno di voi o fangore che creatura a Zia Teneva ha vediato una cestina ricotta e fuscella ha ricotta e fuscella ha ricotta e cestina ma anzi andiamo a dire quello che andiamo a preparare lo faccio re senza dirlo ma io penso che la pariscia qui già sanno commentare e già hanno compreso di quello che andremo a fare ma sono tornata creatura è tornata bambina ci facciamo la ricotta con zucchero che cosa? Zucchero e ti ha ricotta il tuo bicchiere ecco qua ok metto il zucchero cambia la cucchiaino poi si va a mettere il zucchero e poi se ci batte e c'eravano i bambini scelta cose io mi ricordo ecco tu dici ho bambini no quanti di voi si ricordano la stupenda che è stupenda spettacolare che voi mi ricordi che ero piccolo e facevo pomeriggio di solito il pomeriggio era arrivato che si facevo come spuntino ero spuntino perchè non c'era l'utilizzo di tanto yogurt invece io facevo la mattina i figli miei che cosa? vieni con me e credo che non le piace a mettere tutto o ritornare bambino povero chi è cresciuto con ricotta e zucchero? mamma mia che ricordi che bellezza si bastavano pochi ricotta e zucchero che poi è dolce già ricotta e fuscella è dolce il zucchero è una bomba proprio infatti voglio esagerare lo diamo ai veri bambini che stanno qua inoputo e spero che vi ho sbloccato non ricordi ragazzi perché a me me l'ha sbloccato ha detto no ferma aspetta un attimo ci siamo fatti una ricotta con zucchero ma spettacolare si faceva ricotta con zucchero un uovo con zucchero si faceva tanto il panno con zucchero i bambini sono cresciuti così e dimostri sono cresciuto così no perché poi chi segue oggi capito perché è cresciuto così tra ricotta con zucchero l'uovo con zucchero il panno voglio zucchero è cresciuto a me veramente io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di di quelle si di quelle che non c'è la merendina che venne un periodo venne un periodo adesso facevo da ricordo ho gelato però con yogurt ho yogurt c'è un attimo cucciaino non dico la marca adesso facevo in da cell adesso facevo gelato adesso facevo gelato perché perché non direi a cattù gelato tutta roba che non ingrassava se mangiava i miei dei salutiamo gli amici salutiamo gli amici vi saluto un bacio a tutti e ci vediamo per la prossima settimana spero che vi ho sbloccato il ricordo della serie sempre vita catamagna perché ricotta con zucchero ha la sua buona storia grazie a te grazie ciao